Tanto c'è il fronte pandemia di cui occuparci, saluto e ringrazio Nino Cattabelotta, Presidente della Fondazione Gimbe, buon pomeriggio, grazie e benvenuto. Buon pomeriggio. Vado prima di tutto però a Milano in cento, con il Presidente Cattabelotta cerchiamo di capire anche quale potrebbe essere l'incidenza sulla curva della riapertura delle scuole, ma innanzitutto eventi come quello di ieri, le voglio chiedere al Presidente Cattabelotta, possono incidere sulla curva sebbene alcuni tendano a evidenziare il fatto che fosse un evento totalmente all'aperto e che molti, la maggior parte credo, ma in realtà non ho verificato ovviamente persona per persona, molti indossassero la mascherina. Eventi del genere possono incidere però? Ma guardi, noi non sappiamo esattamente quale sia l'impatto sanitario di un evento come quello di ieri, la mia impressione è che conti più dal punto di vista sociale ed educativo perché è evidente che se ci sono eccezioni che possono permettere assembramenti di queste dimensioni, nel momento in cui ciascuno di noi avrà necessità e voglia di libertà in dimensioni evidentemente sempre più ridotte, si verificheranno tante di quelle situazioni la cui sommatoria invece potrà determinare una risalita importante nella curva dei contagi. Cioè a me non preoccupa quello che può succedere ieri, quali possono essere le conseguenze di ieri legate a quell'evento che come lei giustamente ha detto erano all'aperto, quasi tutti con la mascherina, però proprio il messaggio che disturba dal punto di vista sociale, perché se da un lato ci si chiede delle regole rigide, di rispettare le regole, poi è evidente che il tifo è contagioso, come ho scritto poco fa su Twitter, ma attenzione perché il SARS-CoV-2 lo è ancora di più, quindi è quella la cosa che disturba dal punto di vista proprio comunicativo. E allora voglio farle sentire, poi le commentiamo insieme le parole anche di Franco Locatelli, coordinatore del CTS, che questa mattina è stato ospite di Torina Cartolano. Buongiorno. Tutte le occasioni di assembramento vanno assolutamente evitate, i ricomprese i festeggiamenti da parte dei tifosi della squadra di calcio che ha vinto il campionato nazionale. La gioia la si può comprendere, però io credo che su di essa debba prevalere il senso di responsabilità. Mi faccia dire che 121.000 morti devono averci insegnato qualcosa e onorare la loro memoria, rispettare la perdita delle loro vite vuol dire evitare degli assembramenti. Abbiamo ancora una circolazione virale che non può essere sottovalutata. Ricordiamoci che abbiamo 400.000 persone nel paese che in questo momento sono positive a SARS-CoV-2. Un po' provocatore, voglio chiederle, è possibile che 121.000 morti non ci abbiano insegnato un po' il senso di responsabilità? Quello che sta accadendo, quello che stiamo vedendo da più parti, in alcune occasioni, per la verità, da una parte della popolazione, che cosa significa? Significa che abbiamo meno paura del virus in questo momento, in questi ultimi mesi, Presidente? Io credo che ci siano una serie di comportamenti che siano più di interesse delle scienze sociali che sanitarie. Da un lato mi permette di dire un po' la suefazione pubblica con il numero di decessi, perché noi ci facciamo molto impressionare da una tragedia aerea, da un disastro ferroviare dove magari ci sono alcune decine di morti, però poi quando ne abbiamo 300 al giorno per svariati mesi, il nostro pensiero probabilmente si abitua a tutto questo. E questo rappresenta uno degli elementi. L'altra cosa è che inevitabilmente la voglia di libertà che ciascuno di noi ha, non appena ci sono delle occasioni sociali come quella di ieri, cerca di esprimerla con il massimo anche dell'energia, della rabbia, della gioia, vogliamo metterci tutti i sentimenti che vogliamo. Però tutto questo sta creando nel Paese anche una profonda frattura rispetto a quella che è la precessione della pandemia. Cioè da una parte ovviamente c'è tante persone che da un lato continuano ad avere paura, perché la paura rappresenta sempre un sentimento positivo. Dall'altro utilizzano tutte quelle che sono le raccomandazioni che vengono fornite per proteggere se stesse e gli altri. Dall'altro invece c'è un'altra parte dove ci stanno purtroppo tanti giovani dove ovviamente anche perché percepiscono un rischio minore ritengono che questo sia il momento in cui tutto sia finito. Ma purtroppo non è così. Qual è la situazione attualmente? La situazione attualmente è quella che noi vediamo una discesa della curva dei casi nuovi casi settimanali, ma è una discesa lenta. Siamo intorno a una riduzione che va dal 7-8% alla settimana. Quindi il fiume che ogni settimana ingrossa il laghetto degli attualmente positivi riduce la sua portata settimana dopo settimana. Però come ricordava anche il Presidente Forso Locatelli abbiamo oltre 431.000 casi attualmente positivi e verosimilmente questi rappresentano soltanto una parte perché ovviamente sappiamo che c'è una quota di persone che stanno, un pezzo di iceberg che sta sotto il pelo dell'acqua. Si stanno alleggerendo in maniera importante sia i reparti di aria medica sia le terapie intensive e quindi siamo in quella che si chiama la fase discendente della terza ondata. Però nel report di venerdì dell'Istituto Superiore di Sanità si vede un piccolissimo incremento assolutamente non preoccupante da questo punto di vista dell'indice RT che riguarda sette regioni e sembrerebbe essere dovuto verosimilmente a quella che è stata un po' la riapertura dei nidi e della scuola primaria visto che l'incidenza... Che fascia d'età va a colpire questo incremento? Sono prevalentemente due fasce d'età quella che va a fine 5 anni e quella che va da 6 ai 10 anni stando, voglio dire, al report dell'Istituto Superiore di Sanità. sono ovviamente due fenomeni associati. Quello che noi potremo vedere, cioè quale sarà il reale impatto di un'Italia tutta gialla o quasi tutta gialla dal 26 aprile lo potremo scoprire non prima della metà di maggio perché sappiamo che ci vogliono almeno due o tre settimane per poter vedere quelli che sono i risultati sia di misure restrittive da un lato sia di misure di allentamento delle restrizioni. Allora, io voglio portare a... Allora, veniamo al tema che rappresenta la via d'uscita a tutto questo e quindi i vaccini. Intanto sentiamo un piccolo primo estratto di quello che ha detto quest'oggi il Gerardo Figliuolo dal Lab di Ostia a proposito della vaccinazione del nostro paese. Vediamo. Noi abbiamo oggi 20 milioni e 700 mila somministrazioni a fronte di circa 24 milioni e 700 mila vaccini quindi abbiamo 4 milioni di vaccini da impiegare in questi giorni finché il 6 maggio non arriveranno i nuovi afflussi quindi la campagna sta procedendo secondo quello che avevo prefigurato all'inizio. Da questo punto di vista Torcardo Bellotta ci siamo abbiamo ingranato la marcia giusta abbiamo raggiunto i famosi 500 mila anzi anche superati il primo maggio giornata di festa che è assolutamente caratterizzata da cali vertiginosi in questo caso invece non c'è stato quel calo di cui potevamo avere paura. Abbiamo realmente intrapreso la strada giusta finalmente sui vaccini? Direi di sì dal punto di vista quantitativo perché se vengono garantite le forniture regolari e se ormai le regioni hanno preso il passo adeguato dal punto di vista della potenza di fuoco rispetto alla capacità vaccinale direi che tutto dovrebbe andare secondo quelle che sono le previsioni del piano del generale Figliuolo. L'unica mia, non dico preoccupazione ma in qualche maniera elemento da tenere in considerazione è quella della regolarità delle forniture che rimane ancora seppur nettamente aumentata rispetto al passato rimane ancora non perfettamente costante settimana dopo settimana quindi se si regolarizza anche la quantità delle forniture non credo che ci debbano essere particolari problemi di rallentamento. Quello che noi oggi stiamo vedendo è che abbiamo vaccinato con almeno una dose quasi l'80% degli ultraottantenni quindi siamo praticamente a una copertura quasi totale siamo ovviamente indietro sia con la fascia 70-79 dove solo il 62% ha ricevuto almeno una dose e soprattutto in quella 60-69 dove almeno una dose l'ha ricevuta un terzo della popolazione quindi bisognerà completare queste fasce fragili e poi come è stato annunciato ecco forse anche l'idea diciamo di una vaccinazione libera quindi senza procedere per fasce in maniera tale che si superano quelle che possono essere magari delle riluttanze dei rifiuti selettivi ai vaccini e quindi accelerare ulteriormente quella che è la copertura vaccinata della popolazione. Allora, voglio farle sentire anche queste altre parole del generale Figliuolo a proposito di AstraZeneca. Sentite. I vaccini vanno impiegati tutti. AstraZeneca è un vaccino che è consigliato per determinate classi ma sia l'EMA, l'EMA dice va bene per tutti. Considerate i vaccini ad adenovirus che in Gran Bretagna oggi hanno somministrato 21 milioni di vaccini a AstraZeneca. Questo è importante perché fare il vaccino vuol dire salvarsi. E' chiaro che ci sono degli effetti collaterali ma sono infinitesimi. Questo è il messaggio che voglio lanciare oggi. Dobbiamo impiegare tutto ciò che abbiamo. E' probabile che nell'ambito di quella che si chiama rolling review cioè la revisione dovuta all'esperienza a ciò che succede durante le vaccinazioni di massa si possa anche fare quella raccomandazione di auspicio su una classe inferiore dei 60. E' un po' strano adesso ascoltare queste parole ma è anche vero che l'EMA ha oggettivamente autorizzato la AstraZeneca per tutti. Poi le scelte dei singoli governi sono state però differenti e quindi è stato suggerito il nostro paese sopra i 60 anni. A questo punto come si fa? Ma guardi quello che è il problema reale è entrare sempre nell'ottica del bilancio rischi e benefici. Noi oggi sappiamo che questi rari eventi tromboembodici che come sappiamo sono associati a piastinopenia sono eventi tromboembodici o dei seni venosi cerebrali oppure che avvengono nell'arteria addominale in particolare quella dell'area della misa le arterie splanchniche sono più frequenti voglio dire al di sotto di certa età sicuramente al di sotto dei 60 in particolare diciamo tra i 20 e i 40 anni particolarmente nel genere femminile però sono estremamente rari. E' evidente che il vaccino a rischio zero non può esserci. quello che stanno facendo vedere alcune analisi effettuate anche sul profilo rischio beneficio che il vaccino AstraZeneca potrebbe non essere consigliato in situazioni di circolazione del virus molto bassa e non è questa la nostra situazione e in fasce d'età in particolare nelle donne particolarmente giovani però noi qua stiamo discutendo di vaccinare voglio dire i 50 anni quindi non farsi straordinariamente giovani ribadendo che comunque il vaccino a rischio zero non esiste voglio dire quindi questo è un dato di fatto quindi da questo punto di vista più persone vacciniamo e più noi voglio dire usciamo prima da questa pandemia. Assolutamente. Grazie. Grazie davvero al dottor Nino Cartabelotto a presentare la Fondazione Gimbe. A presto. Buon lavoro. Grazie e buona serata.